Bene amici, oggi scopriamo insieme il Mirimare Sunrise 7 con allestimento comfort. Un battello con una lunghezza fuori tutto di 7,20 m e una larghezza di 2,65 m con tubo all'ari gonfi ma perfettamente carrellabile da sgonfio. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa si trovano due plancette strutturali separate dal motore. Motore che in questo caso vede la potenza massima installabile di 150 CV ma la motorizzazione minima parte da 40 CV quindi ottimo anche in ottiche prime esperienze e noleggio barche. Sulla plancetta di sinistra si trova la scaletta, scaletta con maniglia TNT bene molto comoda per agevolare la risalita dall'acqua. Poco più avanti invece si trova la doccetta. A terra vediamo installato su tutto il piano di calpessio il rivestimento TECGO, rivestimento che permette quindi di avere un ottimo grip oltre a lasciare spazio alla personalizzazione e ridurre al minimo la manutenzione. Accedendo in pozzetto vediamo che c'è il divanetto a forma di C molto ampio che occupa tutta la larghezza interna del battello. Si trovano anche due mastri laterali in vetroresina con imbottitura leggera per dare maggior supporto e abbiamo anche in questa versione installato il roll bar con tendalino. In questo modo è semplicissimo ombriggiare la porzione di poppa e relax assicurato. Inoltre vedete al centro c'è la predisposizione con foro per installare una base fissa e creare quindi una dinette con tavolino. Mentre è possibile rimuovere la base e poggiare la prolunga del tavolo al centro per creare un unico grande prendisole di poppa e guardate qui è davvero comodissimo. In più qui in basso possiamo sollevare il portello e abbiamo accesso al vano tecnico vedete permette di arrivare praticamente in carena che è comodissimo non solo per le ispezioni ma anche per monitorare il serbatoio dell'acqua e le due batterie oltre all'impiantistica con pompa di sentina. In più ai lati del divanetto si trovano due gavoni con un portello stagno molto comodi per lasciare all'asciutto gli oggetti ma opzionalmente è possibile anche installare un frigorifero a pozzetto sostituendo appunto uno dei due gavoni. In più in questo layout troviamo l'installazione in acciaio che funge appunto da supporto per lo scinautico e per il wakeboard personalizzazione richiesta dal cliente perché tutto quello che vedete è totalmente personalizzabile secondo le esigenze. Abbiamo anche lo schienale centrale che può essere ribaltato verso poppa per ampliare l'area prendisole qualora appunto non volessimo installare il supporto per lo scinautico oppure possiamo ribaltarla verso prua per sollevare il motore e quindi favorire il tilt completo. Guardate la facilità di movimento a bordo riusciamo a passeggiare senza difficoltà ci sono queste due maniglie tienti bene ricavate posteriormente alla seduta seduta che è iconica del cantiere mirimare perché guardate ha la sua conformazione. Il suo design dedicato qui troviamo all'interno delle masse di poppa due comodi porta bicchieri ci spostiamo quindi nella postazione di comando vediamo che c'è una poltroncina monoposto con imbottitura naturale che può fungere appunto sia da poggiareni ma anche da poltroncina qualora volessimo sederci perché vedete c'è questa inclinazione dedicata che permette quindi dare supporto alla schiena. In basso c'è un comodo gavone porta oggetti stagno in questo modo possiamo riporre i piccoli oggetti e fa il paio con quello presente nella zona inferiore della console perché guardate permette di entrare all'interno del blocco oltre ad accedere ai contatti interni della console. Sono quindi al comando vedo che ho il timone centrale davanti a me vedete c'è tantissimo spazio per le gambe quindi nessuna difficoltà di ingombro abbiamo sulla plancia l'indicatore del serbatoio dell'acqua indicatori on off a filo su due livelli presa usb abbiamo l'HMR10 fornito da hertz con l'impianto stereo il simrad come display multifunzione ma ovviamente personalizzabile su richiesta bussola ben visibile davanti a me centrale abbiamo l'indicatore del carburante il contagiri e l'indicatore del trim forniti con il motore mercury non manca ovviamente la manetta di potenza sul lato di dritta e la chiave di accensione. Ci spostiamo verso prua sul piano di calpestio il rivestimento consente una completa personalizzazione in questo caso troviamo il logo del cantiere abbiamo questo rialzo in vetoresina che arriva alla mia caviglia e il tubolare arriva a metà del mio polpaccio quindi siamo riparati all'interno c'è tanto spazio per il movimento a bordo oltre a una comodissima mania tintibene che si trova su entrambi i profili della plancia. Ci spostiamo verso prua qui troviamo anche le luci di via e vedete grazie al layout center console possiamo passeggiare su entrambi i lati e quindi sfruttiamo l'intera area del battello e riusciamo a spostarci rapidamente anche in caso di manovra. La prua ha una conformazione tradizionale guardate occupa l'intera larghezza anteriore del battello comodissima ed è gavonata al suo interno basta sollevare questa maniglia senza dover necessariamente rimuovere i cuscini e vediamo che c'è una doppia molla a gas abbiamo lì l'ispezione del vano della catena e abbiamo tanto spazio per lo stivaggio anche per le dotazioni di sicurezza in questo caso troviamo la prolunga del cuscino. E c'è anche l'alloggio dedicato per il tavolino in questo modo riusciamo a tenerlo sempre allo stesso posto e ogni getto ha la sua posizione teniamo tutto in ordine. Abbassiamo il gavone e arriviamo nella zona di prua al di sotto di quest'altro cuscino invece c'è il verricello guardate rimuovendolo accediamo al suo gavone è realizzato in modo tale da poterlo monitorare dalla plancia di comando perché vedete c'è un'inclinazione naturale quindi riusciamo a tener conto della posizione dell'ancora e della catena quindi poter intervenire rapidamente in caso di difficoltà in questo modo una sola persona può effettuare tutte le manovre stando comodamente lì dalla plancia ed è utilissimo soprattutto appunto ottica noleggio e prime esperienze. Il musone è in vetoresina vedete con design del cantiere segue richiama le linee della console e del blocco seduta e non mancano ovviamente la doppia galloccia per l'ormeggio posta in posizione tale da non far sfregare le cimesi tubolari come in questo caso vedete siamo ormeggiati ma non va a intaccare la gomma del tubolare. E quindi cari amici questo è il Mirimare Sunrise 7 con allestimento comfort come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale youtube e alla pagina facebook lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate e come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.